25 Albert Einstein Einstein 1879-1955 fisico tedesco naturalizzato svizzero e statunitense generalmente considerato il più importante fisico del ventesimo secolo conosciuto al grande pubblico anche per la formula dell'equivalenza massa energia ha detto è del tutto possibile che oltre la percezione dei nostri sensi si nascondano mondi a noi ignoti commento se è vero come dicono i maestri immateriali che tutto ciò che si è compreso diventa noi stessi Einstein già in terra si preparava ad essere un maestro immateriale